Una nuova apertura per la BCC Buccino Comuni Cilentani in viale Eburum a sostegno della comunità locale in un luogo che anche fisicamente è crocevia di molteplici interessi. Raccordo tra Eboli e Battipaglia, i maggiori centri di interesse economico dell'area del Sele dove industria, servizi e comparto agricolo sono dinamicamente presenti. Una banca di prossimità che integra il sistema digitale con il canale tradizionale dell'accoglienza e dello sportello dedicato al cliente, grandi benefici ai consumatori con un'offerta mirata e su misura di semplici prodotti bancari e di servizi di pagamento. La nuova filiale dell'Istituto di Credito Cooperativo è stata inaugurata ieri mattina alla presenza dei vertici della BCC Buccino Comuni Cilentani, del presidente Lucio Alfieri e del direttore generale Salvatore Angione. Noi abbiamo la necessità di rivedere un po' il nostro modello di business che non significa però abbandonare le piccole comunità, significa essere equilibrati tra due esigenze, quelle di essere una buona banca dal punto di vista tecnico e sicuramente veniamo in una piazza importante, noi vogliamo qua soprattutto guardare al mondo dell'agricoltura, dell'allevamento, delle piccole e medie imprese, è sicuramente un tessuto molto importante e quindi noi veniamo a Debole, a Santa Cecilia con grandi interessi, allo stesso modo però senza tralasciare quelli che sono i rapporti umani, delle piccole comunità, quindi cercheremo di essere equilibrati. I numeri sono sicuramente positivi, è una banca che quest'anno esprimerà un risultato di esercizio importante però non è solo l'utile quello che conta, conta avere la solidità patrimoniale, quella elevatissima perché noi siamo abbondantemente sopra il 25% di ricette quindi ci sono sicuramente degli elementi che danno fiducia a questo istituto. Oggi vogliamo però essere ancora di più parte integrante del territorio e delle nostre comunità perché abbiamo l'ambizione di poter partecipare a dei tavoli un po' sinergici con le comunità per dare la possibilità ai nostri paesi di fare quello scatto che meritano. Vicini di banca, lo slogan scelto per rafforzare l'identità cooperativa della BCC che si affaccia su una nuova realtà importante per fatturate e qualità delle aziende produttive cuore della Piana del Sele, una nuova sfida per la BCC Buccino Comuni Cilentani che scommette ed investe in un momento storico per il comparto agroalimentare che per buona parte sostiene l'area, modelli di sviluppo innovativi stanno modificando la tradizionale filiera ortofrutticola, i giovani scommettono sul proprio territorio e hanno voglia di vedere al loro fianco una banca che abbia i requisiti per accompagnare questa rinascita imprenditoriale. Vicini di banca è anche un sentimento collettivo, voglia di proporsi alle famiglie e ai giovani per le piccole necessità quotidiane e per un progetto di vita insieme per dare certezza a quanti cercano soluzioni rapide ed efficienti. Questo è un obiettivo fondamentale perché in un'epoca dove il sistema bancario tende alle chiusure delle filiali e quindi ad interpretare un concetto di prossimità non fisico ma digitale. Per noi banchi di comunità la filiale rappresenta sempre un'opzione strategica molto importante. È ovvio che anche noi in un contesto in continua evoluzione dobbiamo ripensare il modello di filiale. Anche noi abbiamo come obiettivo quello di far vivere un'esperienza omnicanale alla nostra clientela ma questo vale per gli aspetti transazionali mentre la filiale è d'ora in avanti. L'interpretazione che noi diamo è quella di sostenere i nostri clienti sotto il profilo consulenziale. Oggi è molto importante perché anche l'accesso al credito, le barriere che i regolatori europei stanno mettendo per l'accesso al credito soprattutto delle piccole e medie imprese sono molto importanti e il nostro ruolo sarà quello anche di formare e informare i nostri clienti soci del come poter accedere alle fonti di finanziamento necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. La BCC Buccino Comuni Cilentani di Eboli Banca 4.0 offre servizi all'avanguardia, propone soluzioni innovative ma rimane nel cuore della gente la banca di prossimità e nel caso di Eboli la filiale di cui fa riferimento per i propri desideri e le aspettative. Non ci fermeremo qua, è un passo per dare sempre più servizi sul territorio, un passo di espansione anche visto tutte le nuove norme, abbiamo perso un po' di tempo a focalizzare un po' la situazione ma stiamo avviando un percorso di espansione sul territorio per la nostra clientela e per acquisire altra clientela nuova. Grazie a tutti!